La fata delle Dolomiti non ha smarrito nulla del suo inimitabile fascino e a salire a Moena per il settimo anno consecutivo equivale ancora una volta ad un grande piacere per tutta la truppa blucerchiata, impegnata nel ritiro precampionato che proprio nella giornata di ieri ha visto i ragazzi di Mister Mazzarri calcare per la prima volta al green del campo comunale Cesare Benatti. Un ritorno in Val di Fassa, celebrato con grande enfasi dagli clienti locali e dalla popolazione di Moena, ormai affezionati alla presenza della Samp e del suo colorito seguito di sostenitori. Dall'hotel Catinaccio al centro sportivo è già ripreso il consueto via vai di supporte e sedamici del Doria, tutti intenti a non perdersi nemmeno un istante delle intense giornate di Palombe Compagni. Doppia seduta di allenamento nella giornata di domenica per gli uomini in blucerchiato, che hanno bagnato il loro ritiro estivo con sessioni incentrate sul fondo, non mancando però una prima immersione nella tattica. L'inizio degli allenamenti in vista della stagione sportiva 2008-2009 ha avuto un protagonista quasi assoluto nelle prime sedute vissute al Benatti. Si tratta del professor Giuseppe Pondrelli, storico collaboratore di Mister Walter Mazzarri, al quale l'uomo di San Vincenzo si affida per quel che riguarda la preparazione atletica della squadra. Aspetto fondamentale, specie in questi primissimi giorni di lavoro sul campo, per il quale il prof ha logicamente già previsto un intensissimo menù. I ragazzi sono stati trovati abbastanza bene, sia a livello di peso corporeo, sia dai dati emersi dai test atletici. A differenza dello scorso anno, la preparazione varia dal punto di vista della quantità, in quanto c'è più possibilità di lavorare, per il semplice fatto che non abbiamo a breve termine comunque l'impegno che avevamo l'anno scorso di un turno di andata e ritorno di Intertoto. Il primo appuntamento importante sarà appunto il 31 agosto per l'inizio del campionato, quindi c'è tutto il tempo per comunque pianificare una preparazione in modo un pochino più quantitativo rispetto all'anno scorso. La prima settimana si assomiglia molto alla settimana dell'anno scorso, quindi lavori appunto più di quantità sia per per quanto riguarda la forza e per quel che riguarda la resistenza. Dalle prossime settimane diciamo che i lavori passeranno di più sulla qualità, quindi si accorceranno le distanze, si abbasseranno un pochino i carichi per quel che riguarda la forza e appunto varierà il ritmo esecutivo, comunque si lavorerà appunto di più sulla qualità che non sulla quantità. Ripresa degli allenamenti e ritorno alle consuete abitudini per quel che riguarda il ritiro estivo di Moena, prevedono come da programma diversi incontri con i media per i calciatori ed i membri dello staff Blu Cerchiato. Ma da quest'anno ci siamo anche noi e Samp Web TV inaugura la serie di prodotti esclusivi con un grande protagonista dell'ultimo campionato, Luca Castellazzi. Il portierone di Gongorzola è già al lavoro da tre mesi esatti dall'infortunia alla spalla riportato in Regina Sampdoria. Lavoro intenso seppur ancora a scartamento ridotto e tanto tanto ottimismo per il futuro prossimo. Queste le sue parole. Il recupero sta andando molto bene, sono tre mesi che sono stato operato quindi si è stato fatto un buon lavoro da parte del chirurgo Castagna, della fisioterapista Volpi che mi hanno seguito subito immediatamente dopo l'intervento. Adesso mi sono aggregato qui con la squadra, sto lavorando a parte però penso che nel giro di un mese posso essere pronto e disponibile per entrare in gruppo. È un lavoro che si divide in tante parti, prima di fisioterapia, con Bertuzzi, di esercizi con Tibaudi, di lavoro atletico con Papale. Quindi diciamo che ne ho da fare dall'inizio, nell'allenamento fino alla fine, diversi tipi di lavoro. Anche perché devo ritrovare gli ultimi gradi di movimento per la spalla e però rinforzarla e trovare anche un po' di confidenza con il campo e con la palla. Ho già iniziato ad andare a terra quindi questo è un buon segnale di recupero. Se tutto va bene, quello che mi è stato pronosticato nel giro di un mese ancora di lavoro duro, come sto facendo, potrei essere, penso, metà fino agosto, a disposizione. Spettacolo puro tra Italia e Repubblica Cech Under-19 ai campionati europei. Ieri, a Boleslav, gli azzurrini hanno superato i padroni di casa per quattro reti a tre, staccando così il biglietto per le semifinali in programma mercoledì. Protagonista assoluto del match Andrea Poli, che con una doppietta ed un assist decisivo ha letteralmente trascinato l'Italia alla seconda fase. Un esplof fantastico quello di Andrea, ripreso quest'oggi dai media nazionali, che non hanno mancato di lodare anche Vincenzo Fiorillo, autore ancora una volta di almeno tre interventi decisivi a difesa della Porta Azzurra. Mercoledì, in semifinale, l'Italia se la vedrà proprio con l'Ungheria, dell'altro euroblu cerchiato, Vladimir Coman. Grazie a tutti. Grazie a tutti.